Per noi questo appuntamento è importante perché quest'anno a Forum Pia abbiamo deciso di puntare l'attenzione non tanto sul cosa fare nelle amministrazioni per innovare, né su come farlo. I manuali sono importanti e nelle nostre diverse attività vedete che affrontiamo questi temi. Quest'anno noi abbiamo deciso di analizzare il perché le amministrazioni devono innovarsi e il perché la risposta è per uno sviluppo equo e sostenibile del Paese. Ci interessa inoltre il tema del metodo con cui la strategia nazionale che è ancora una proposta se sono corretto, è ancora una proposta, quindi il metodo che è un metodo di condivisione è un metodo in cui sono stati ascoltati oltre 200 enti e questo dimostra che quando le amministrazioni lavorano possono produrre qualità. Passo subito la parola al dottor Brunelli. Molte grazie a Roma. Ovviamente non è la prima volta che parlo della strategia nazionale in un evento pubblico per lo sviluppo sostenibile e mi piace sempre iniziare l'intervento sulla strategia nazionale ricordando come nasce ovviamente ma cosa è successo nella seconda metà del 2015 e perché i tre avvenimenti che si sono susseguiti a livello ONU, a livello mondiale e quindi in quel semestre, l'ultimo semestre del 2015, hanno portato a una situazione che è forse per la prima volta l'ambiente più adatto a creare delle politiche di sostenibilità. Fate molta attenzione che quando si parla di sostenibilità tipicamente in Italia almeno fino a qualche tempo fa si riteneva che la sostenibilità fosse sostanzialmente la sostenibilità ambientale. Ovviamente tutti sanno, tutti voi sapete che lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che ha tre pilastri di cui il pilastro ambientale è uno gli altri due sono il pilastro sociale e il pilastro economico. Occorre sempre avere questa definizione tripartita dello sviluppo sostenibile per approcciare in maniera corretta la questione. Quindi l'ultimo semestre del 2015 di cui parlavo a giugno c'è stato ad Addis Abeba il lancio dell'Az Abeba Action Plan ovvero di un'agenda ONU che finanzia lo sviluppo lo sviluppo di PWS Paesi di sviluppo quindi è un primo mezzo vero, concreto con previsioni finanziarie per concretizzare lo sviluppo sostenibile. Siamo a giugno, tre mesi dopo a settembre tutti sapete che l'Assemblea dell'ONU ha votato e ha approvato la decisione che lancia la strategia l'agenda 2030 l'agenda 2030 è un'agenda che nasce molto lontano nel primo decennio del 2000 con un processo assolutamente globale ovviamente avendo l'obiettivo di arrivare un'agenda globale di sviluppo un'agenda che da subito per le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile doveva essere e sarà ed è universale trasversale partecipata partiamo da principi molto molto generali che però stanno trovando nella partecipazione di tutti i sistemi dell'ONU e di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite una comune visione per la sua attuazione voglio semplicemente dire che il processo a livello mondiale di cercare un processo che deve cercare la coerenza a livello mondiale dell'attuazione della complessissima agenda 2030 è un processo governato dall'ONU con uno strumento che annualmente un tavolo che annualmente si riunisce che è l'high level political forum che sotto l'assemblea generale o sotto a seconda delle circostanze il Comitato Economico Sociale dell'ONU si riunisce annualmente per fare il punto sostanzialmente per fare il punto con dei meccanismi molto precisi di sorveglianza e di monitoraggio della strategia vediamo qual è stato il processo molto velocemente come si è svolto il processo preparatorio che ha visto lanciare un programma che si chiamava un milione di voci il mondo che vogliamo voi vedete che questo richiama un po' l'antico ormai processo lanciato da Harem Grobruntland la ministra la ministra norvegese che lanciò negli anni 80 il nostro futuro comune Our Common Future che è un po' la pietra miliare di partenza da cui con un processo naturale si è arrivati a il momento di cui parlavo prima il momento che ha portato l'intero mondo a trovarsi una situazione sono ottimista probabilmente molto favorevole a che si parli di sviluppo sostenibile in una maniera molto strutturata con il processo lanciato dall'ONU ci sono avuti ben 100 dialoghi nazionali su 11 tematismi e questa slide dà l'idea appunto della complessità e dei numeri importanti che hanno costituito che hanno formato questo processo partecipativo mi soffermo unicamente sulla sorta di 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 mondiale sul processo che ha visto 7-3 milioni di persone che hanno partecipato dando una una graduatoria diciamo così delle loro priorità per il loro per lo sviluppo ricordo qui che tutte e 32 in basso a sinistra le agenzie dell'ONU hanno partecipato a questo processo in particolare il processo è stato condotto come vedete dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite insieme a gruppi delle Nazioni Unite UNDG che si occupano di sviluppo mi piace qui ricordare come parlando di ambiente e cambiando di sviluppo e parlando di sviluppo sostenibile c'è stato un passaggio di testimone recentissimo fra l'UNEP il programma ambientale delle Nazioni Unite e il programma sviluppo delle Nazioni Unite io mi auguro che la circostanza che consiste nel essere il Hakim Steiner il precedente direttore esecutivo dell'UNEP diventato il direttore esecutivo della UNDP del programma di sviluppo dell'UNEP porti a una sorta di passaggio di testimone che faccia sì che l'UNDP sia uno dei protagonisti un vero coordinatore di questo processo di sviluppo venendo a parlare avendo parlato adesso della della circostanze che hanno portato negli anni passati alla formazione dell'Agenda 2030 voglio solo ricordare ancora prima di passare alla descrivere la strategia nazionale come l'Agenda 2030 a livello ONU sia stata negoziata per l'Italia dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale insieme al Ministero dell'Ambiente si sono negoziati all'inizio del primo decennio del 2000 i cosiddetti Millennium Goals che poi si sono evoluti nella cosiddetta Agenda post 2015 che poi è diventata l'Agenda 2030 per lo sviluppo che poi è diventata l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile questo cambiamento non insignificante del nome dell'Agenda per lo sviluppo ad Agenda per lo sviluppo sostenibile ha visto l'Italia come il principale promotore per questo cambio ok veniamo appunto a descrivere la strategia nazionale a dicembre 2015 quindi scusate di descrivere quello che è successo nel primo semestre del 2015 non ho parlato per abitudine del COP21 che a dicembre a Parigi ha lanciato il programma che deve portare alla coerenza di un programma comune che porti all'abbassamento del riscaldamento globale ovviamente questo è un mio pensiero costante per cui non mi è venuto di indicarlo in quanto comunicavo precedentemente a dicembre dicevo è stata promulgata la legge 221 del 2015 una legge il cosiddetto collegato ambientale a una legge finanziaria il collegato ambientale dove viene indicato molto chiaramente all'articolo 3 che il ministero dell'ambiente ogni 3 anni deve lavorare ad aggiornare la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che nel lontano 2002 è stata approvata dal Cipe è stata scritta dal ministero dell'ambiente è evidente che a quella data al dicembre 2015 poi ovviamente la norma è stata preparata nei mesi precedenti chi doveva attuare l'indicazione del legislatore all'articolo 3 il ministero dell'ambiente non poteva fare a meno di non far riferimento all'esistenza consolidata e strutturata dell'agenda 2030 la cosa interessante da dire nella seconda parte della slide è che l'esistenza di una strategia nazionale di sviluppo sostenibile dovrà dare coerenza anche al dettato del legislatore che nell'integrare il cosiddetto codice dell'ambiente il decreto legislativo 152 nell'integrarlo nel 2010 con un ulteriore decreto legislativo dava l'indicazione che una strategia nazionale di sviluppo sostenibile doveva funzionare anche come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione programmazione e valutazione di tipo settoriale territoriale questa indicazione vuole molto in concreto dire che occorrerà giocarsi gli indicatori ad esempio che andranno a costruire la strategia nazionale di sviluppo sostenibile dovranno essere coerenti con gli indicatori meglio viceversa gli indicatori che vengono usati per le attività di valutazione ambientale ad esempio la vasta la valutazione ambientale strategica dovranno essere coerenti con gli indicatori che saranno usati per la costruzione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile questa è una prima indicazione per dare l'idea di come si debba attuare subito una concretezza nelle strategie che ovviamente vengono lanciate vediamo ora nel vivo come si è costruita operativamente la strategia il ministero dell'ambiente per le circostanze che richiamavo prima si è trovato a coordinare un lavoro interistituzionale evidentemente evidente a tutti molto complesso le tematiche di per sé sono molto complesse chi si occupa di ambiente chi si occupa di sviluppo sociale sviluppo economico si occupa di tematiche che intrinsecalmente sono complesse metterle insieme le tre tematiche in una strategia che deve essere attuata dai vari livelli istituzionali italiani è un processo molto molto complesso che tutto sommato ha visto il ministro dell'ambiente comportarsi in una maniera direi che ha portato a un successo che mi sembra forse sono ottimista sia stato riconosciuto dai vari livelli anche da livello regionale l'assessore spano qui presente ha partecipato a una riunione in cui sono state limate ulteriormente dei contenuti di una prima bozza di strategia ma anche e direi soprattutto il lavoro complesso è stato il lavoro di coordinamento con gli altri ministeri per andare a fare un primo lavoro che è il cosiddetto posizionamento della strategia nazionale rispetto gli obiettivi che vengono dati dall'agenda 2030 i 17 goal i 169 target e i 232 indicatori prodotti dalla Nazione Unite con questi numeri molto precisi con questa circostanza molto ben definita si è fatto un primo esercizio che ha portato a individuare dove l'Italia con i suoi strumenti di programmazione sui strumenti normativi sui strumenti di pianificazione territoriale sociale ambientale creati dal governo e dai vari livelli di amministrazione locale in che maniera si posizionava rispetto i 17 goal e i 169 target questo esercizio è stato praticamente fatto da tutti gli stati che partecipano a questa complicata attuazione dell'agenda 2030 peraltro nel momento in cui si andava a fare questo esercizio di posizionamento più di un anno fa a febbraio 2016 sono piovute sui vari ministeri compreso il ministero dell'ambiente una serie di quesiti una serie di questionari cito quello dell'Ocse cito quello dell'Unece cito quello anche di varie associazioni private che appunto proponevano il loro posizionamento dell'Italia rispetto l'agenda 2030 è evidente che giocando con dati diversi con numeri diversi numeri gli indicatori dell'Ocse non sempre sono indicatori che provengono dalla linea ONU UNECE ISTAT per quanto riguarda l'Italia non sempre gli indicatori di associazioni dell'associazionismo sono gli indicatori che nascono dalla linea che dicevo prima UNECE forse è stato l'agenzia regionale europea ovest delle Nazioni Unite è stata quella che forse ha portato a un posizionamento che forse più assomiglia a quello che l'Italia ha fatto tenendo conto degli indicatori chiamiamoli ONU per capirci e delle loro normative di ordine programmatorio che vanno a inferire sui 17 gol sulla base di questo lavoro di posizionamento sono stati individuati punti di forza e di debolezza tipicamente della situazione italiana questi punti di forza e di debolezza sono stati circostanziati e sono stati evidenziati delle aree prioritarie delle scelte strategiche degli obiettivi nazionali da raggiungere che vedremo meglio dopo quindi intorno a marzo si è avuta una prima proposta di strategia nazionale che nasce sostanzialmente dal posizionamento e dall'evidenziare i punti di forza di debolezza a oggi siamo a un momento complesso come dicevo di confronto interistituzionale per arrivare a una approvazione il confronto interistituzionale in questo momento è coordinato sostanzialmente da Palazzo Chigi dal segretariato generale della presidenza del consiglio i ministeri chiamiamoli di spesa per non per riferirci direttamente al ministero dell'economia e delle finanze sono i ministeri che principalmente guardano con attenzione questo processo e sono quelli che con più attenzione stanno giocando per arrivare a una strategia nazionale che sia molto coerente vorrei solo segnalare qui come nell'ultimo DEF documento di economia e finanza che ha un capitolo molto importante che è il PNR il programma nazionale di riforme che annualmente viene pubblicato ci sia un'indicazione molto chiara che i riferimenti devono essere dati fatti all'interno della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e gli indicatori che misurano le performance nazionali devono essere indicatori coerenti con la linea di indicatori che dicevo prima nasce dall'ONU e in particolare in maniera sperimentale per il primo anno sono stati proposti l'introduzione nel DEF nel PNR di alcuni indicatori che ho detto i BES di benessere economico e sostenibile indicatori che molto spesso coincidono negli indicatori che ho chiamato indicatori ONU e per la parte ambiente per la prima volta nel nel PNR nel DEF nel capitolo PNR del DEF sono stati individuati due indicatori di ordine ambientale uno è tipicamente le emissioni di gas effetto serra l'altro indicatore molto importante un indicatore che io chiamo perno per lo sviluppo sostenibile sono l'analisi dei cosiddetti flussi di materia e energia che attraversano il sistema produttivo in Italia analisi che deve portare ovviamente a uno studio sulla sostenibilità del modello di sviluppo quest'ultimo indicatore come potete capire è un indicatore molto complesso molto aggregato quindi disaggregabile e può essere oggetto di studio voglio solo sottolineare che passiamo parlando quando parliamo di flussi di materia e di energia del goal 12 dei 17 goal dello sviluppo sostenibile il goal 12 che parla di produzione e consumo sostenibile ciclo di produzione e consumo sostenibile è un goal su cui quantomeno l'Europa quantomeno i paesi sviluppati stanno puntando molto perché io sono d'accordo con questo molto d'accordo con questo è un obiettivo la produzione e consumo sostenibile che ci porta a il famoso paradigm shift lo spostamento di paradigma che le prime pagine della strategia 20-30 indica questo spostamento di paradigma è una parolina è una questione messa lì all'inizio della prime pagine ma a mio modo di vedere di sentire è il core l'aspetto principale su cui tutti gli stati che vanno a lavorare su agenda 20-30 ci stanno girando intorno senza dare indicazioni concrete su come su come andare a attuare questo paradigm shift però appunto andare a giocare almeno gli stati i paesi sviluppati con il goal 12 processi sostenibili di produzione e di consumo è già un passo molto importante e ci sta molto concentrando su questo aspetto con una serie di come dire audizioni abbiamo coinvolto nel circa 200 associazioni che rappresentano la società civile con vari cicli che fino a hanno portato fino a qualche mese fa a chiudere a marzo un secondo ciclo di coinvolgimento della società civile che ha portato al draft che trovate pubblicato lo draft punto 3 0 3 che appunto è stato non dico approvato ma è stato costruito anche sulla base di audizioni molto complesse praticamente con tutta la società civile un ulteriore ciclo di audizioni non so se sia corretto chiamare audizioni comunque di riunioni è stato fatto anche con il mondo della ricerca e della conoscenza in primis sono stati sentiti sulla strategia sul testo della strategia per una condivisione sono stati sentiti l'Enea il CNR l'ISPRA l'istituto che si occupa di ricerca ambientale e l'ISTAT è un processo che è stato condiviso anche con il mondo della ricerca più ampio quindi con università e con altri istituti di ricerca scientifica è un contributo di questo mondo della ricerca il mondo universitario il mondo accademico che ha portato a un ulteriore consolidamento del draft 0 3 quello di cui prima parlavo rispetto il contributo della società civile scusa Giovanni invito il direttore della camera a raggiungerci sul palco appena arrivato ecco sempre per parlare della maniera in cui è stata costruita la strategia ovviamente vorrei parlare anche di come è fatto chiamiamolo lo scheletro su cui la strategia è stata costruita avendo indicato all'inizio che partendo dal cosiddetto posizionamento abbiamo visto dove è bene che si vadano a sviluppare per quanto riguarda la situazione italiana gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da fare l'agenda 2030 è costruita intorno a 5 aree lo satura lo scheletro intorno al quale bisogna costruire il vestito che porti allo sviluppo dell'agenda 2030 è costruita da 5 aree principali che casualmente in inglese e in italiano iniziano per P le famose 5 P che riguardano l'area persone pianeta prosperità pace e partnership secondo i quattro principi guida dell'agenda che vengono riflessi sostanzialmente anche nella strategia nazionale principi di integrazione università universalità inclusione trasformazione secondo questi quattro principi sono state individuate scelte strategiche che ovviamente sono collegabili a tutti i 17 goal dell'agenda 2030 scelte strategiche che devono portare a obiettivi nazionali che devono tendere a un valore obiettivo al 2030 alcuni valori abbiamo visto possono tendere anche ulteriormente ad esempio il valore di consumo del suolo il quarto programma d'azione dell'Unione Europea porta a un valore zero al 2050 quindi per l'obiettivo consumo del suolo che è un obiettivo del goal 15 abbiamo un obiettivo al 2050 ben oltre al 2030 che ci chiede l'agenda quindi avendo individuato questi valori obiettivi dobbiamo fare un gioco con indicatori primari e secondari per capire la direzione in cui stiamo andando valori di policy indicatori di policy e capire quanto vale e quanto è veloce ad esempio la direzione che stiamo prendendo per raggiungere il valore obiettivo che ci siamo proposti quindi con indicatori secondari molto velocemente vorrei far vedere anche ulteriori considerazioni che riguardano la modalità con cui è stata costruita l'agenda 2030 e la coerenza con cui che abbiamo cercato di seguire la coerenza con l'agenda 2030 nel costruire la strategia nazionale il 5P è evidente che nella P che riguarda le persone abbiamo individuato strategie che devono portare a contrastare la povertà l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali a cui corrispondono un certo numero di target sempre nell'area persone garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano e promuovere la salute e il benessere diverse intensità del colore danno l'idea del livello di coerenza con l'obiettivo people delle strategie degli obiettivi strategici che ci siamo posti questo per dire della complessità del processo ovviamente perché è evidente che il contributo del ministero della salute il contributo del ministero del lavoro il contributo del ministero degli interni su questi particolari target che vanno a vestire l'area persone sono contributi che abbiamo avuto e che stiamo senz'altro inserito in maniera corretta nella nostra proposta di strategia andando sempre a un'altra area l'area pianeta che è molto complessa perché è qui che si gioca molto del pilastro ambientale dei tre pilastri del sviluppo sostenibile le strategie da attuare sono quelle che riguardano l'arresto della perdita di biodiversità l'intensità maggiore che riguarda questa area pianeta la gestione sostenibile delle risorse naturali ma ovviamente quando si parla di risorse occorre parlare di risorse in genere è quello che dicevo prima l'importanza del goal 12 sviluppo produzione e consumo sostenibili la centralità di questo goal per un paese sviluppato come l'Italia e creare parlando di pianeta comunità e territori resilienti costruire i paesaggi e i beni culturali quando si parla di territori resilienti è molto evidente che stiamo parlando di politiche che attengono alle politiche molto ampie che sono costruite sulla lotta ai cambiamenti climatici sto parlando dei piani ad esempio per l'adattamento ai cambiamenti climatici strategia che è stata costruita a suo tempo anche dal governo italiano e oggi esiste oltre la strategia anche un piano all'adattamento e ovviamente abbiamo fatto sì che questo piano per l'adattamento sia coerente con l'agenda e con la strategia di sviluppo nazionale che stiamo costruendo per l'aspetto prosperità è evidente che l'aspetto prosperità attiene molto alle questioni sociali quindi un ruolo molto importante che ha avuto il ministero del lavoro e il ministero ma anche altri ministeri ad esempio è evidente che la decarbonizzazione dell'economia è un processo che il ministero dell'ambiente sta portando avanti all'interno della costruzione della strategia energetica nazionale è un importante elemento costitutivo e coerente con la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che può attenere l'aspetto prosperità ma vorrei sorvolare su altri per l'aspetto pace è evidente che parliamo di strategie che attengono molto praticamente tutti i ministeri perché l'argomento è forse il più globale di quelli che affrontiamo nell'agenda 2030 ma questi argomenti devono trovare una loro attuazione in cooperazione soprattutto con per quanto riguarda la situazione italiana con tutti i ministeri in particolare un grosso ruolo ce l'ha il ministero degli interni e il ministero del lavoro il settore partnership è un settore molto complesso come vedete dalla numerosità delle situazioni che attengono a questo settore vorrei solo sottolineare qui come nel settore partnership si voglia parlare della governance globale della strategia nazionale e qui vorrei parlare dell'aspetto come dire della dimensione esterna della strategia nazionale una dimensione esterna che evidente deve attenere principalmente azioni che sono di competenza del ministero degli affari esseri della cooperazione internazionale e qui voglio dire con molta chiarezza come il piano triennale per la cooperazione e lo sviluppo che è stato promulgato recentemente e approvato dal governo faccia in maniera molto evidente citandolo con molta precisione riferimento alla coerenza con le azioni di cooperazione e lo sviluppo con l'agenda 2030 riferendosi principalmente all'ultimo goal al numero 17 che è quello che in qualche maniera è richiamata in questa slide vorrei concludere accennando che ovviamente l'agenda 2030 ha portato a definire le 5P come struttura principale ma è evidente che dobbiamo complementare in maniera più precisa le modalità con cui queste 5P vengono interpretate e nel costruire la strategia abbiamo individuato quelli che avremmo chiamato vettori di sostenibilità ovvero individuare delle situazioni non so come chiamare diversamente che riguardano le modalità di partecipazione delle istituzioni che riguardano la modalità di attuazione di azione di educazione e sensibilizzazione le modalità di attuare valutazioni di politica è un tema molto complesso ma che occorre sviluppare con molta precisione le modalità in cui la pubblica amministrazione deve affrontare necessariamente con processi che portino a una sua modernizzazione forum PA grosso ruolo penso che alla fine di questi tre giorni alcune indicazioni possano avvenire in questo senso in un forum PA che parla di sostenibilità e poi come giocarci la conoscenza comune non voglio qui parlare di big data perché il tema non so se l'Ista sia d'accordo con questo il tema dei big data è un tema assolutamente da indagare ma come appartenente come dirigente della pubblica amministrazione nel momento in cui mi trovo a gestire un'agenda di sviluppo per misurare il progresso di questa agenda vorrei aprire un cassetto in cui trovo dati che siano comparabili con tutte le amministrazioni nazionali che siano comparabili con i colleghi le amministrazioni degli stati membri dell'Unione Europea e a sua volta tramite un coordinamento presso l'Unece comparabili con i dati che la Commissione Statistica dell'ONU ci va a proporre ho parlato di un processo e qui concludo molto 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 complesso un processo governato come ho spiegato i motivi dal Ministro dell'Ambiente coordinato in questo momento dalla Presidenza del Consiglio un processo che dovrebbe concludersi a breve a brevissimo mi auguro e concludo dicendo che fra qualche mese un mese e mezzo circa a metà luglio il governo italiano presenterà a high level political forum presso le Nazioni Unite presenterà la sua prima revisione della strategia revisione a questo livello vuol dire spiegare la modalità con cui è stata costruita la strategia lo presenterà insieme ad altre 43 stati ONU questo per dire come il processo non sia un processo di pura descrizione di una volontà di arrivare ma un processo molto strutturato i processi di follow up e review dell'attuazione dell'agenda 2030 sono molto strutturati in maniera molto precisa e questo fa sì che si possa vedere con un certo ottimismo a una vera attuazione a livello mondiale forse appunto sono ottimista dell'agenda che l'ONU nel settembre del 2015 ha lanciato io vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 per questo quadro esaustivo sulla genesi e sui contenuti della strategia ringrazio intanto Stefano Ciafani direttore generale dell'ambiente che ci ha raggiunto ci ha raggiunto anche il direttore generale della Camera passo la parola all'assessore Spano assessore della difesa dell'ambiente della regione Sardegna la regione Sardegna anche il soggetto coordinatore della quinta commissione ambiente della conferenza Stato-Regioni all'assessore chiederei quale può essere l'apporto appunto dei territori e delle regioni e che valore ha una strategia nazionale per il sistema regioni grazie buongiorno a tutti grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa intanto devo val la pena riprendere alcuni alcuni momenti che sono diventati storici in questi ultimi anni di ciò che è avvenuto e che ha reso possibile la predisposizione lo sviluppo di questa strategia devo dire che come è stato citato prima il 2015 rappresenta per l'Italia forse l'anno più ricco in termini ambientali nel senso che col collegato ambientale si sono effettivamente poste le basi per molte delle iniziative che sono poi sorte il collegato ambientale contiene misure di green economy dà delle linee sul contenimento dell'uso eccessivo di risorse nonché l'obbligatorietà per quanto riguarda gli acquisti pubblici ecologici in cui le regioni si sono trovate già piuttosto pronte devo dire e devo dire che scusate un po' lo spot ma la regione Sardegna in questo caso è stata una delle regioni leader proprio in termini di acquisti pubblici ecologici come esempi virtuosi nella pubblica amministrazione ha rilanciato il tema della contabilità ambientale e del capitale naturale questi sono elementi che sono stati apprezzati moltissimo a livello regionale allora credo che proprio questi passaggi abbiano costituito quelle basi fondamentali perché si sentisse e si sviluppasse quella strategia presentata in questi in questi in quest'ultimo anno come la strategia per lo sviluppo sostenibile quindi cambiando completamente quella che era la visione della strategia del 2002 il documento precedente del 2002 in questa in questi passaggi le regioni sono state sentite hanno cercato di collaborare e hanno cercato contemporaneamente anche di mostrare di valorizzare una cosa che si deve comunque consolidare quelli che sono gli aspetti territoriali erettoriali esempi virtuosi o iniziative di cui il nostro paese è ricco però sono tutte iniziative così come dire a macchia di leopardo allora è necessaria una sistematizzazione di questi buoni esempi allora io credo che la strategia e le regioni ne sono consapevoli serva proprio per questo per cambiare cambiare e lo si diceva anche prima dal punto strategia per lo sviluppo per la sostenibilità ambientale a strategia per la sostenibilità con un indirizzo politico una visione strategica più alta e quando dico più alta significa che proprio l'ambiente è certo il punto importante di passaggio ma non può fare a meno di tutto ciò che c'è come cambiamento sociale e come cambiamento economico allora questo evidentemente impone che anche la fase di analisi e la fase di coinvolgimento non possa che essere estremamente trasversale non possa che essere multidisciplinare questo significa che anche la pubblica amministrazione è chiamata ad affrontare nell'attuazione della strategia un cambiamento a livello ministeriale a livello regionale a livello locale e forse questa è una delle sfide più importanti proprio per la riuscita nel senso che a livello amministrativo non si è completamente abituati a lavorare in questo modo e invece questo è proprio il prerequisito per attuare la strategia devo dire che da una prima valutazione della strategia è stato apprezzato questo difficile compito di sistematizzazione di integrazione tra le diverse dimensioni della sostenibilità perché vengono individuati in modo sintetico gli ambiti prioritari di azione e gli obiettivi strategici nazionali quindi in generale le regioni danno un giudizio positivo anche se non abbiamo completato l'analisi stiamo abbiamo fatto circolare i documenti e però vogliamo come abbiamo fatto in altre per altre strategie per altri documenti dare un parere che sia realizzato attraverso una metodologia la metodologia non è soltanto quella di così stendere un documento per dire sì vi suggeriamo questi aspetti ma una metodologia che è basata su una griglia di analisi e la griglia di analisi è praticamente pronta e sarà fatta circolare in commissione la commissione è organizzata con una parte per chi insomma non lo sapesse è organizzata con una parte politica e una parte tecnica quindi abbiamo referenti tecnici che analizzano i documenti fanno una revisione tecnica importante e poi c'è una valutazione tutta questa analisi tecnica passa alla fase della composizione politica del documento e quindi all'approvazione come abbiamo fatto anche per il piano di adattamento ai cambiamenti climatici abbiamo preparato una griglia con dei punti discussi dalle regioni che permettesse di far focalizzare l'attenzione e il contributo di ciascuna regione su un numero definito di aspetti cioè estrapolando dalla lettura della strategia quelli che sono gli aspetti più rilevanti proprio per il livello regionale in modo da assicurare una parte e un apporto propositivo quindi avendo già fatto circolare così do anche questa informazione al dottor la camera avendo già fatto circolare i documenti avendo preparato questa griglia di analisi credo che dare il compito e dare la scadenza di un mese se non fosse troppo tardi per la strategia vedo già segni per la strategia comunque per la valutazione il riempimento della griglia e poi è molto facile con questo metodo arrivare ad un documento complessivo devo dire che ci sono anche degli aspetti formali perché comunque il documento deve arrivare formalmente alla conferenza delle regioni per la richiesta di parere io posso naturalmente continuare a fare questo lavoro quindi questo lavoro è la base per la formulazione del parere però poi il lavoro il documento che viene fuori dalla commissione deve passare da un fatto informale ad un fatto formale quindi questa è anche una raccomandazione che vi faccio quindi diciamo che per quanto riguarda il parere stiamo lavorando in questo modo e spero insomma che possa essere apprezzata questa possa essere apprezzato il metodo poi vi sono alcune proposte che stiamo o comunque abbiamo già sperimentato che possono essere attivate come per altri casi mi riferisco per esempio al discorso della strategia sui cambiamenti climatici c'è il piano di adattamento ai cambiamenti climatici abbiamo istituito all'interno della conferenza delle regioni un tavolo interregionale composto da regioni e dai rappresentanti del ministero come interlocutori allora un aspetto importante può essere proprio quello di avere questo tavolo di discussione e di interconnessione proprio per la fase attuativa perché poi la fase attuativa fa sì che le regioni si impegnino a sviluppare una propria strategia e quindi per far muovere le amministrazioni di 20 regioni più le province autonome è necessario che ci sia un forte stimolo una forte aggregazione un forte coordinamento quindi una proposta è proprio quella di istituire questo noi lo possiamo fare con molta facilità un tavolo interregionale dobbiamo avere chiaramente il riscontro anche del livello nazionale quindi livello ministeriale è stata descritta la metodologia che è stata utilizzata in fase di sviluppo quindi con momenti di ascolto molto numerosi e col coinvolgimento della comunità scientifica del mondo produttivo del mondo economico della società civile una delle raccomandazioni sarebbe quella di mantenere questo metodo di ascolto anche in fase di attuazione perché appunto faciliterebbe senza dubbio il fatto di e mi riallaccio a quel che dicevo prima al raggiungimento dei territori al raggiungimento delle degli obiettivi di sostenibilità in modo capillare in prospettiva si potrebbe anche pensare alla costituzione di una piattaforma che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e questo proprio per stimolare la replicabilità di queste esperienze e azioni messe in atto nei territori e sarebbe anche utile dare impulso all'integrazione tra le varie reti appunto per stimolare l'approccio multidisciplinare queste sono insomma le prime considerazioni fatte con le regioni certamente si è visto e si tocca spesso con mano un po' il distacco la separazione tra pubblica amministrazione quindi proprio parte pubblica e il coinvolgimento del mondo delle imprese della società civile e spesso la separazione tra azione pubblica e quella privata costituisce un forte freno e limita l'efficacia dell'azione soprattutto con tematiche così alte e così importanti esiste esiste un tema per le regioni forse sembra meno alto e meno aulico rispetto ai principi della strategia è il fatto che comunque applicare mettere in atto una strategia di questo tipo senza risorse è sempre molto complesso e quindi noi ci auguriamo che ci sia la possibilità anche di dotare la strategia di un budget perché è chiaro che non può essere soltanto o non possono essere soltanto azioni immateriali un altro aspetto importante per le regioni è il fatto che nella strategia si stimola un cambiamento un cambiamento complessivo allora in questo senso questo cambiamento deve essere accompagnato da azioni di educazione quindi non soltanto azioni di educazione pensate in modo tradizionale l'educazione ambientale che peraltro in questi ultimi anni viene rilanciato e viene rilanciato positivamente con diverse azioni ma in questo caso si tratta proprio di facilitare la comprensione della complessità e della interdipendenza delle sfide globali che caratterizzano i nostri tempi allora quando parlo di educazione evidentemente non mi sto rivolgendo soltanto ad un target di bambini o giovanissimi è necessario avere tutti cercare di raggiungere tutte quelle tutte le persone tutti i cittadini che possono essere che devono essere responsabilizzati su diversi aspetti della sostenibilità e ci deve essere e devono essere sensibilizzati soprattutto sullo stretto legame che esiste tra fattori ambientali e cambiamenti sociali questo è un fatto politicamente molto importante e se noi pensiamo soltanto ai flussi migratori per esempio ai migranti climatici credo che la comprensione di questi di questi fatti sia necessaria e dobbiamo abbiamo il dovere di fornire gli strumenti di sensibilizzare quindi abbiamo però per far questo abbiamo necessità di approcci metodologici e di linguaggi anche più innovativi quindi basati anche su una narrazione della sostenibilità che deve essere senz'altro scientificamente rigorosa ma deve usare metodi che siano accattivanti che siano molto aggiornati una cosa che si può pensare è proprio a come sfruttare quelli che noi chiamiamo i nativi digitali i nativi ambientali o nativi sostenibili in modo tale che diventino protagonisti perché sono quelli più capaci sfruttando la conoscenza e la capacità di una società così tecnologica e appunto digitale sono più capaci di arrivare di coinvolgere tutti capillarmente allora credo che la dimensione poi personale perché a questo punto oltre all'azione dei governi della pubblica amministrazione quando parliamo di sostenibilità parliamo di problematiche così ampie e così alte dobbiamo però poi arrivare al singolo e quindi il coinvolgimento personale in questo senso e la dimensione esperienziale è necessaria e credo che nei territori sia necessario trovare quel giusto metodo per arrivare al singolo e questo è anche uno dei nostri doveri allora un po' per concludere io credo che ci sia la necessità di costruire una pubblica amministrazione e una cittadinanza che sia globalmente edotta e consapevole alla minaccia ambientale che è una minaccia senza precedenti per il nostro pianeta quindi dobbiamo fornire ognuno la conoscenza necessaria per ispirare azioni di tutela ambientale di tutela in generale delle risorse in sintesi di sostenibilità credo che ci aspetti un compito impegnativo ma lo abbiamo lo stiamo affrontando dove lo dobbiamo affrontare insieme in tutti i livelli di governance grazie 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 assessore spano passo la parola a Stefano Ciafani direttore generale di Cambiente al quale chiedo qual è il valore per la società civile della strategia dalle parole del dottor Brunelli abbiamo ascoltato un imponente percorso di ascolto e quindi è interessante capire cosa può cambiare questa strategia sì buongiorno innanzitutto grazie dell'invito grazie al ministero grazie al direttore e alla camera per questa opportunità rispondo alla domanda ma faccio una piccola diciamo premessa perché ragionare sulla strategia che è messa che è stata definita dall'agenda dell'ONUAL 2030 credo che sia una grande occasione questo ovviamente non parlo solo dell'Italia parlo di tutti i paesi che sono coinvolti in questa agenda è una grande occasione che fino ad oggi non è stata non si è riusciti ancora diciamo a cogliere nel senso diciamo più quello più significativo è un'agenda che è ancora poco conosciuta questo parlo per l'Italia insomma non ho la percezione su quello che avviene negli altri paesi e credo che tutti dobbiamo fare a partire da noi insomma compresi noi uno sforzo per promuovere questo strumento che è uno strumento che parlo sia dell'agenda che della strategia nazionale sono strumenti importanti che ovviamente per essere significativi anche nel lavoro che si deve mettere in campo dopo aver definito gli obiettivi è fondamentale che questi obiettivi oltre ad essere definiti oltre ad essere come sempre gli obiettivi devono essere misurabili e rendi contabili bisogna mettere in campo un percorso un programma per anche premiare o penalizzare chi quegli obiettivi non riesce a raggiungerli perché altrimenti rischia di essere un esercizio importante questo è un esercizio che diciamo che ha messo che ha impegnato risorse diciamo umane economiche intelligenze assolutamente significativo per fare in modo che sia un lavoro il più proficuo il più efficace possibile è fondamentale che una volta individuata la strada che il nostro paese deve praticare nell'ambito dell'agenda definita a livello mondiale questa strada sia inevitabilmente seguita perché se lo si fa in base ai vari obiettivi definiti lo si fa e c'è un riconoscimento e quindi anche una premialità nel caso in cui non lo si faccia si devono mettere in campo delle penalità sul ruolo delle associazioni allora credo che voi lo sottolineate anche nella presentazione di questo workshop di stamattina è importante il lavoro che devono fare tutti i soggetti e tutti gli attori nell'ambito di questi percorsi il pubblico deve fare la sua parte a livello centrale a livello locale il privato deve fare la sua parte ma anche le associazioni ovviamente i cittadini organizzati possono dare il loro contributo noi in questo periodo stiamo lavorando molto lavoriamo su diversi obiettivi definiti dall'agenda ONU lo facevamo anche prima che fossero definiti ma insomma facendo una cernita delle attività della nostra associazione ovviamente ci ritroviamo in diversi dei goals definiti dalle Nazioni Unite in questo periodo tra le attività che stiamo mettendo in campo ce n'è una molto particolare che rientra nell'obiettivo 14 che è quello sulla protezione degli oceani l'ONU ovviamente vede molto gli oceani vede poco il Mediterraneo perché lo considera forse una pozza d'acqua non è proprio così il lavoro che abbiamo fatto negli anni nei quasi 30 anni il devoro con goletta verde sul monitoraggio delle acque negli ultimi anni abbiamo messo in campo anche un nuovo monitoraggio che è quello relativo al problema del marine litter che è un tema su cui abbiamo messo in campo la strategia associazioni amministrazioni pubblico e privato tra l'altro parteciperemo alla conferenza mondiale sugli oceani dal 5 al 9 di giugno a New York al Palazzo di Vieto proprio per raccontare la nostra esperienza e promuoveremo uno dei 100 eventi paralleli che sono organizzati nell'ambito della conferenza che avrà proprio il focus del Mediterraneo parteciperà anche il Ministero dell'Ambiente parteciperà il sottosegretario Silvia Velo ecco sul tema non tanto sul monitoraggio delle acque che abbiamo fatto insomma abbiamo iniziato nell'86 quanto sul tema del marine litter negli ultimi anni abbiamo messo in campo questa strategia coordinata abbiamo fatto monitoraggi definendo una serie di protocolli ad esempio con l'ISPRA Enea lo scorso anno ci ha aiutato a capire se i rifiuti i macro rifiuti galleggianti che rinveniamo con la nostra goletta sono in qualche modo riciclabili dopo essere stati all'interno diciamo dell'ambiente acquatico marino dopo diverso tempo stiamo coinvolgendo le aziende private per capire come risolvere il problema a monte lavorando sul design e quindi anche progettando i materiali che poi troviamo in mare o sulle spiagge ma è tale che la loro degradabilità sia molto più veloce evitando ovviamente che finiscano nei fiumi e poi nel mare ma insomma nel caso in cui ci arrivino garantire questo e fare anche un lavoro con le aziende private per capire che cosa fare di questi rifiuti nel momento in cui vengono in qualche modo recuperati o perché si recuperano dal mare con modalità che ovviamente devono essere ancora definite o quelli che poi finiscono sulle spiagge quel prossimo weekend organizziamo la 25esima edizione di spiagge fondali puliti insomma daremo il nostro contributo con i nostri volontari anche su quello facciamo un'attività molto particolare di contributo di un'associazione di cittadini che in questo fine settimana anzi proprio stamattina pubblicheremo i risultati del censimento che abbiamo fatto su 60 spiagge italiane contando i rifiuti che ci sono in transetti lunghi 100 metri e larghi quanto è larga quel tratto di spiagge in quella località e questo è un contributo a proposito della sinergia delle associazioni con le istituzioni stiamo praticando insomma gli anglosassoni la definiscono la citizen science cioè il contributo che i cittadini possono dare per alimentare di numeri di dati scientifici la conoscenza di problemi ambientali per contribuire a definire la strategia per risolverli e questi sono esempi concreti di come le associazioni possono in qualche modo affiancarsi e integrarsi con il lavoro delle amministrazioni pubbliche coinvolgendo anche il mondo privato chiudo sui passi successivi alla definizione delle strategie perché la nostra esperienza quello che abbiamo visto nel passato è che sulla base di strategie che vengono definite a livello internazionale non sempre nel nostro paese riusciamo ad essere conseguenti e coordinati questo è uno dei problemi prima l'assessore Spano parlava del problema delle risorse che è un problema oggettivamente io sollecito e evidenzio anche un altro problema una volta definite le strategie perché magari derivano da accordi internazionali mondiali quello della COP21 di Parigi sulla lotta cambiamenti climatici o magari comunitari come possono essere stati gli accordi del pacchetto energia e clima definito dall'Europa su cui ci dovremmo riesercitare come stati membri a partire dal prossimo anno per definire nuovi obiettivi ecco su temi così importanti trasversali e trasnazionali come i temi ad esempio climatici ed energetici è fondamentale che definita la strada a livello mondiale definita la strada a livello comunitario poi si sia e si si mettano in campo in Italia politiche che siano coerenti e coordinate perché insomma non sempre le linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente corrispondono a quelle del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura non sempre le linee di indirizzo definite dal Governo poi vengono in qualche modo recepite in maniera come dire coerente con le regioni perché magari c'è un problema di una non so un problema relativo occupazionale a una centrale che deve essere centrale di produzione di energia magari a carbone che deve essere dismessa e per farne una questione come dire di ovviamente attenzione sociale poi si continua l'attività di impianti che fanno venire meno quello che è il raggiungimento dell'obiettivo generale così come questo per quanto riguarda le regioni così come per quanto riguarda ovviamente le attività che poi i comuni dalla loro parte devono fare a partire dai comuni più grandi ecco credo che su questo si debba una volta concluso questo lavoro si dovrà trovare il modo di rendere questa strategia una strategia definita cogente appunto ritorno alla formula che davo all'inizio con una serie di penalità e premialità per chi non rispetta il raggiungimento di quegli obiettivi perché altrimenti rischia di essere un lavoro importante che ha messo in campo insomma l'uso di tante risorse per definire obiettivi nazionali nell'ambito della strategia mondiale al 2030 che poi non sono efficaci sarebbe come dire un lavoro oltre che frustrante per chi ci ha lavorato anche inefficace per gli interessi della collettività e del paese perché raggiungere gli obiettivi della strategia al 2030 darebbe dei contributi importanti anche ovviamente per tutti per la collettività per l'economia e per tutti gli interessi che su questi temi nel nostro paese ovviamente sono concentrati quindi insomma uno sforzo ulteriore su questo bisognerà farlo non sempre ci siamo riusciti nel passato insomma sarebbe ospicabile che conclusa la definizione della strategia questa volta si possa fare magari in maniera diversa rispetto a come si sia fatto in altre occasioni su altri fronti nel passato grazie passo la parola a Francesco Lacamera direttore generale per lo sviluppo sostenibile del ministero dell'ambiente per le conclusioni di questo nostro incontro ok grazie a tutti grazie a tutti per i vostri interventi e per la partecipazione direi che il tema dello sviluppo sostenibile preso a oggetto del forum della PIA quest'anno è un tema che vive un momento di attualità accanto a questo nostro forum c'è questo festival per lo sviluppo sostenibile ne parlavo ieri con uno dei suoi ispiratori il professor Giovannini il sito dell'iniziativa ha avuto 20.000 contatti in pochissime ore quindi vuol dire che in effetti c'è un'attenzione su questi temi sulla quale dobbiamo cercare in qualche modo di navigare come diceva l'assessore Spano questi ultimi paio di anni sono stati molto importanti sia sul piano nazionale si ricordavano alcuni risultati di questa attività sia sul piano internazionale fondamentalmente le società i paesi nella dimensione globale dovrebbero ormai lavorare avere il percorso in qualche modo definito da quello che sono l'agenda 2030 approvata proprio a settembre 2015 con i suoi obiettivi con i suoi indicatori e quant'altro e poi l'accordo di Parigi e ancora prima il finanziamento per lo sviluppo della conferenza di Isabeba senza andare a Sendai sul rischio e quant'altro quindi il 2015 dal punto di vista del quadro internazionale è stato un anno fertilissimo cioè non troveremo un anno simile per i prossimi 15 anni il problema è di capire quanto poi la comunità globale riesca poi a lavorare coerentemente con questo disegno che si è che si è data in ambito nazionale oltre a quanto già indicato dall'assessore Spanoce anche la strategia nazionale energetica che dovrebbe vedere la luce in questi giorni il catalogo di sussidi ambientali perché è anche molto importante dal punto di vista delle risorse cercare di capire di identificare quelli che vengono definiti i sussidi perversi nel nostro paese ammontano più o meno 5 miliardi di euro e forse qualcosina in più una finanziaria sostanzialmente già che viene dedicato a sostenere iniziative che non sono coerenti né alla nozione di sviluppo sostenibile né ai suoi temi e né a un'economia che si avvia verso la transizione energetica e la decarbonizzazione quindi anche quello è un documento importante la relazione sullo stato dell'ambiente che è un mattone forse un po' troppo grosso per poter essere poi letto in tutte le sue parti il cambiamento climatico tutta una serie di attività che contribuiscono in qualche modo ad alimentare la possibilità che questo cambio di mentalità che vorrebbe introdurre la strategia di sviluppo sostenibile nel nostro paese possa diventare una realtà in questo ambito facciamo riferimento il direttore di Lega Ambiente a questa iniziativa sugli oceoni ci sarà dal 5 al 9 di giugno mi pare il Ministro dell'Ambiente parteciperà voi parteciperete con il Ministro dell'Ambiente è un altro momento di attenzione che segna come in qualche modo la strada tracciata con l'agenda 2030 viene poi seguita in qualche modo più o meno coerentemente dai vari paesi però quello su cui volevo soffermarmi nel tentativo di chiudere il discorso che si è fatto qui peraltro molto brevemente è di rendere chiaro se è possibile almeno nel mio punto di vista su quello che cos'è la strategia di sviluppo sostenibile e questo perché mi sembra importante perché è chiaro che stiamo avendo dei ritardi nell'approvare la strategia questi ritardi derivano da opinioni diverse delle amministrazioni ma soprattutto derivano dalla incapacità dalla nostra burocrazia eccellente ancora di capire cosa vuol dire una strategia nazionale di sviluppo sostenibile perché se non si copisce la differenza fra un disegno strategico di questa natura e una finanziaria o altri documenti è chiaro che diventa difficile andare a essere d'accordo sulle cose da scrivere e da provare fermo restando che nonostante questa turbulenza che abbiamo penso che abbiamo alla presenza del Consiglio la persona più adatta perché questa nave arrivi sino in porto almeno che sia formalmente approvata la strategia la strategia non è nient'altro che è un'idea di quello che noi vediamo pensiamo debba essere la società italiana fra 15 anni è un'idea di futuro per quanto riguarda la nostra società quindi quegli obiettivi in parte non tutti quantificati ma con tutti con un orientamento preciso sostanzialmente dovrebbero dire quello che l'Italia voglia essere fra 15 anni quindi un disegno che è una dimensione strategica come dire molto molto importante e perché è necessaria avete visto dall'esposizione di Giovanni quanto sia stato in lungo il percorso e quanto abbiamo insistito perché ci fossero un momento di partecipazione da parte del pubblico ma questo è non è è per più ragioni una è perché l'idea di sviluppo introduce una nozione che supera l'idea di quantità l'idea di sviluppo introduce una nozione di qualità la nozione di sviluppo è legata alla circostanza che non si creda che il benessere equivale alla somma delle quantità dei beni e dei servizi consumali sul mercato quindi che non si riduce a un'espressione di una somma di quantità ma quanto piuttosto voglia andare a parlare anche di qualità di questo sviluppo su questo ognuno di noi penso siamo gente che ama questi temi quindi si ricorderà sempre che il discorso di Kennedy di Bob quando dicesse che il PIL misura tutto ciò che non ci dice quanto stiamo bene nel nostro paese insomma quanto sia scorretta questa informazione a questo punto se lo sviluppo introduce questo elemento qualitativo forte come si vanno a definire poi gli indirizzi quando non è solamente il mercato che ce li può dare allora a quel punto è necessario che ci siano strumenti diversi che lo scambio delle merci attraverso i prezzi ma piuttosto che ci sia un'indicazione di una come dire di un'idea di un orizzonte culturale che segna quello che vogliamo essere al di là di quello che il mercato possa fare ecco perché è necessaria la partecipazione altrimenti questa definizione di valori e di interessi non verrebbe mai presa in considerazione in maniera adeguata e poi perché è importante la partecipazione perché vedete cosa vuol dire darsi gli obiettivi al 2030 vuol dire superare la logica del ciclo politico il ciclo politico si sorrisce in quattro in alcuni paesi nel nostro cinque ma un disegno che vada già al 2030 non può essere il disegno di un governo poi il governo potrà interpretarlo dare le sue priorità ma il disegno a 15 anni è qualcosa che deve vedere la gente protagonista cioè deve essere qualcosa non vuol dire che sia un atto costituente ma è qualcosa che deve raccogliere attorno alla definizione dei valori attorno all'idea di futuro tutto ciò che può essere raccolto nella società italiana e quindi non è espressione di una volontà di governo è espressione di una comunità che vuole essere qualcosa con un orizzonte temporale in un certo orizzonte temporale ecco perché la partecipazione è importante ecco perché ci abbiamo molto insistito questo non vuol dire che quello che abbiamo fatto esaurisce la discussione perché non c'è come dire una dimensione culturale pronta anche dal punto di vista della partecipazione a orientarsi in maniera decisa ma è questo perché noi vorremmo che il processo di revisione della strategia sia continuo non tanto per aggiornarsi ai voleri dei governi che cambiano quanto piuttosto assicurare che la partecipazione sia sempre più come dire chiare sia sempre più precisa sia sempre più presente e che continui a indicare questa volontà comune di un obiettivo di un obiettivo comune di una società perché ciò che avvenga perché ciò avvenga occorre che ci sia una governance di questo processo che sia realmente realmente efficace quindi è inevitabile che la strategia di sviluppo sostenibile nella sua parte di controllo di monitoraggio non possa essere privilegio di un'amministrazione deve essere piuttosto privilegio del massimo organo politico fondamentalmente e quindi alla presidenza del consiglio della presidenza delle governi regionali e così via scendendo agli altri livelli naturalmente occorrerà dare gambe alla governance perché una cosa è la dimensione politica al suo livello più alto un'altra cosa è che poi ci sia qualcuno che si smazzi per poter arrivare a che le cose realmente poi avvengono e quindi lavoreremo sicuramente in questa logica e su questo vorrei tornare anche ad alcuni suggerimenti che hanno proposto chi è intervenuto prima di me è chiaro che la strategia di sviluppo sostenibile deve avere delle risorse ma le risorse della strategia di sviluppo sostenibile non sono proprie la strategia dovrebbe essere quello strumento sovraordinato che orienta il modo con cui spendiamo il budget ordinario cioè nella mia mente nella mente di chi lavora questa roba perché la mia avrebbe poco significato è che alla fine un consiglio dei ministri che riceve una proposta di qualsiasi natura dovrebbe essere informato sulla coerenza che la proposta ha rispetto a questo disegno che la società si è data nel lungo periodo e anche capire il contributo che quella proposta dall'aggiungimento degli obiettivi cioè ci dovrebbe essere un esame di coerenza non è tanto che la strategia abbia bisogno di risorse proprie ma quanto la capacità di orientare la spesa del paese cioè che la spesa del paese sia orientata da questo disegno strategico la parte invece che ritengo occorra debba poter avere una strategia e questo mi sembra che sia stato già detto in maniera chiara è che ci vuole come dire un finanziamento di iniziative pilota delle iniziative di educazione qualcosa che come dire prepari l'ambiente a questa trasformazione a cui la strategia la strategia nazionale ambisce anche questo si riverba naturalmente a livello regionale le regioni c'è un vecchio articolo ormai desueto che però è ancora in vigore che obblicherà le regioni entro un anno se questa strategia riusciremo a portarla a fondo a fare le proprie e nel fare le proprie le regioni dovrebbero dire quale contributo le strategie regionali dovrebbero andare a portare alla strategia nazionale in relazione alle proprie competenze alle proprie aree di competenze e così a quel tempo quando si era pensato a questa idea c'erano anche le agende 21 locali anche esse avrebbero dovuto in qualche modo mostrare nei loro piani il contributo alla coerenza agli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile chiaramente questa è un'operazione complicata e non semplice la strategia è anche come dire stiamo provando a a insistere sugli elementi rilevanti che sono rilevanti sul quadro nazionale anche a livello internazionale il G7 ambiente così il G7 di Tormina speriamo che Trump legge l'autodesi stanotte così arriverà a Tormina più ben disposto nei confronti del clima i temi dell'agenda 2030 del clima sono assolutamente presenti ma quello che più è importante è che emerge in maniera chiara anche a livello internazionale nel G7 discuteremo anche dei sussidi perversi discuteremo di alcuni temi che sono stati qui sollevati quello che emerge è che anche a livello come dire Nazioni Unite è chiaro che la strategia l'agenda 2030 ha quello che viene chiamato un carattere sovraordinato la strategia ha un carattere sovraordinato rispetto alle altre e lo ha anche rispetto all'accordo di Parigi perché l'idea delle Nazioni Unite è che l'accordo di Parigi venga come dire attuato però la brutta implementato all'interno nell'ambito del contesto della strategia dell'agenda 2030 e questo ci riporta a dire quanto poi sia rilevante a livello domestico e quanto complicato sia a livello domestico immaginiamo i fondi strutturali facciamo fatica ad attivare la rete delle autorità ambientali perché le autorità di gestione non si capisce bene perché non vogliono dialogare con le autorità ambientali tutti i piani operativi sono stati iscritti quando ancora i problemi come dire l'attenzione all'economia circolare allo sviluppo sostenibile alla nuova dimensione strategica all'industria 4.0 non c'erano e quindi non potevano essere aggiornati in questa logica non riusciamo a fare partire la programmazione e non mi sembra che ci sia neanche volontà di voler tenere conto di tutto ciò che è successo perché le risorse ancora non spese quando verranno spese verranno poi spese nel migliore dei modi quindi una situazione estremamente complicata io ritengo che questo è un punto importante da capire cioè se realmente vi sia una volontà parlo della politica parlo dell'amministrazione di introdurre questo forte cambiamento perché è un forte cambiamento il problema è di capire se siamo pronti ad accettare questa realtà e muoverci in questa direzione io devo dirvi con molta onestà se ragione utilizzando solamente la mia intelligenza vi dico che non ne saremo capaci poi penso che io abbia anche il dovere di abbandonare questa mia convinzione e dire invece che io spero che riusciamo a essere capaci e penso che io e chi voglia questo cambiamento abbia l'obbligo di lavorarci grazie grazie siamo arrivati al termine di questo di questo incontro come fare un pian raccogliamo la sollecitazione e sicuramente posso annunciarvi che non è il tema di un anno è il tema che seguirà sicuramente la prossima edizione e abbiamo tutte le intenzioni di seguire questo percorso e quello che le amministrazioni faranno quindi vi ringrazio vi ringrazio buona giornata grazie